Luce accese per questa settima del convegno, attenzione, importantissima, sono 2.600 la distanza da percorrere, non corre un isono griff, ne rimangono in undici, sul 7 turdojet c'è Pavesino Panico, chiara favorita tale Axe che scende decisamente anche un po' molto di categoria e l'allievo di Minopoli è lei la più gettonata. Arretrato temibile ok, numero 8, gli altri bene a rete, prende velocità la macchina. La preziosa CAF dal centro tenta di impegnare i cavalli all'interno, insiste la preziosa, ma Rosellina regge ancora parcheggia Trezeghe Q, allargo, turdo, passa, definitivamente la preziosa e va al comando. 13.9 a partire per la targata CAF, è partito bene anche a pergriff, mentre si affaccia Trezeghe. Cavalli al completamento della piegata con Trezeghe che punta in avanti, probabilmente ci sarà un classico freeway, con un 29.9 a partire, Trezeghe passa e viene via gradatamente Tordoget, risale anche gli altri capeggiata da Talia. Si va al completamento dei 600, 600 iniziali in 45.5, si è formata una seconda fila a largo con Trezeghe al comando che amministra ora i birilli. Cavalli al completamento del primo mezzomiglio, mezzomiglio che se ne va nell'ordine dell'1.27, 17.2 di frazione e cavalli che affrontano il penultimo liretrino di fronte con Twitter Gifar nella scia dei primi, cioè di Tordoget. Allargo anche lotto di temibili ok, 17.5 per il primo chilometro, vi rammento che sono 2.600 i metri da percorrere e ora i cavalli affrontano questa piegata. Leggiamo un po' questa frazione in 15.3 da parte di Trezeghe che comanda sempre liberamente, al completamento anche di questa curva e cavalli che si presentano davanti alle tribune all'attacco del giro conclusivo. Non avvengono variazioni sostanziali, tutti si sono adeguati all'andatura del leader. E così Trezeghe che porta da parte sua il cronometro, mentre la tale Axe è nella scia di temibile ok. Si va al completamento del miglio. Il miglio se ne va nell'ordine del 2.4 e mezzo, si viaggia da 17 abbondante. Cavalli che affrontano la penultima curva. Nessuno fa la prima mossa, Trezeghe è sempre a guardare un po' il cronometro per cercare di risparmiare il più possibile. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo e ora Talia si affaccia ma viene parata da temibile. Cavalli di fronte, si distende Trezeghe, guadagna di dentro Upper Griff. Il doppio chilometro in 2.35 e mezzo. Cavalli a 500 metri dalla conclusione. Affrontano ora la curva finale con Trezeghe che ha fatto un pochettino i ricomodi propri. Allunga, si trascina la preziosa e Rosellina. Stentano i cavalli a largo. Cavalli che ha completamente Upper Griff intanto di galoppo. E ora se ne va Trezeghe. Trezeghe allunga dopo uno stop and go prolungato. Non ci sono più problemi per Trezeghe più, mentre la preziosa segue Trezeghe. E per il terzo dobbiamo attendere il giudice d'arrivo. Bella vittoria personale di Vincenzo Luongo. Con questo Trezeghe che va al comando, fa i propri comodi, porta da parte sua il cronometro, beffa un po' gli avversari con un prolungato stop and go, stop and go, stop and go. Bene la preziosa. Mentre per il terzo, poiché sono molto vicini, attendiamo il giudice d'arrivo. È tutto per... dovrebbe essere la Rosellina però, quella di Merola. Ma attendiamo il giudice d'arrivo e la sua foto. Linea allo studio. Trezeghe 385.